Quanto è importante un facile utilizzo della interfaccia grafica dei vostri prodotti? Questa è molto importante, è una dei feature su cui c'è più importanza sia dal cliente ma anche dall'installatore quindi dobbiamo fare in modo che sia l'end user è capace di gestire il video in modo semplice quindi non deve avere tanta esperienza in farlo ma anche per l'installatore il sistema di amministrazione deve essere molto semplice da usare per configurare il sistema. In questo modo il costo diventa minore per l'installatore e quindi un sistema che è più efficiente.